Un'immagine da inferno dantesco. Sì, la forza più distruttiva dell'universo, Harry. Niente può sfuggirgli, nemmeno la luce. Comandante, la sonda è stata programmata. Vuoi dire che andremo nel buco nero? Esatto. Accendere i reattori. Accendere i reattori. Accendere i reattori. Non c'è ragione di allarmarsi. Accendere i reattori. C'è un mondo totalmente diverso oltre quel buco nero. Un punto in cui il tempo e lo spazio come li intendiamo noi cessano di esistere. Inizia il conto alla rovescia. Non c'è ragione di allarmarsi. Accendere i reattori. I comandi non rispondono! I comandi non rispondono Abbandonare la nave Dobbiamo andarcene via subito, la nave si sta disintegrando Tenetevi pensati Non c'è ragione di allargarsi Accendere i creatori Non c'è ragione di allargarsi 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 Non c'è ragione di allargarsi